Il pubblico nel derby fra luci e ombre, i tifosi etnei sono partiti con tanto entusiasmo in circa 600 da Catani, al di là di qualche inconveniente che ha provocato un po' di paura e per fortuna nessuna conseguenza, sono rientrati con parecchia delusione. I sostenitori rosso-azzurri sono arrivati a Palermo con le proprie auto e a bordo dei pullman e dei club organizzati da San Giovanni Lapunta, Gravina e Battiati. Come gli altri anni, i tifosi etnei sono stati sottoposti a due controlli, ma per la prima volta più veloci e meglio organizzati, uno affidato alla questura di Catani e l'altro a quella di Palermo, quest'ultimo a termini merese. All'interno dello stadio Barbera, quando tutto sembrava filar liscio, fra cori di schierno e classici sfottò, svetta il solito idiota che prova a rovinare la festa con il lancio di fumogeni e petardi. Nell'intervallo poi reciproco è stato il lancio di materiale pericoloso dalla curva sud al settore laterale, quello dove sono stati ospitati i tifosi rosso-azzurri, quello speaker che inutilmente ricordava di evitare il lancio di qualsiasi oggetto contundente. Un po' di paura, tanta tensione, ma per fortuna nessun ferito e il derby di Sicilia, che per la prima volta è tornato in notturna dopo la tragedia del 2 febbraio 2007, si è concluso con gli innumerevoli cori di schierno e non poca tensione, per una sfida che resta sempre molto sentita e vissuta forse in modo emotivamente eccessivo.